Buonasera a tutti i nostri telespettatori benvenuti e ben ritrovati a questa nuova e prima puntata dell'anno 2023 di Professione Motori siamo tornati con un nuovo anno ma soprattutto con nuove puntate sempre intense e pieni di nuovi argomenti vado come sempre a salutare e anche a fare tanti auguri di buon anno al mio collega Filippo Gerardi ciao Filippo buonasera e ben ritrovato ciao Martina ben ritrovato a te naturalmente tutti gli amici a casa buon anno a te buon anno a tutti gli amici di Professione Motori una nuova stagione anzi un nuovo anno a tutti gli effetti inizia questa sera anche questa settimana doppio appuntamento questa settimana dedicata principalmente al motorsport è vero con forti sinergie nel mondo del prodotto ma chiaramente con importanti argomenti motorsportivi tra qualche istante inizierete a capire perché esattamente perché vado subito a salutare e a dare il benvenuto ad Eugenio Franzetti direttore di S Performance ciao Eugenio tanti auguri di buon anno anche a te ovviamente tanti auguri a te a tutti i telespettatori grazie di avermi invitato grazie mille a te Eugenio per il tuo intervento ovviamente Filippo come hai detto tu questa puntata soprattutto per quanto riguarda questa sera sarà totalmente dedicata al motorsport anche perché ormai mancano pochissimi giorni veramente al via della nuova edizione precisamente la nona della Formula E ovviamente Filippo noi anche negli anni scorsi abbiamo parlato tantissimo di questo campionato dedicato alle monoposto 100% elettriche e oggi più che mai dobbiamo parlarne non solo perché Eugenio è in collegamento con noi ma perché sappiamo quanto l'elettrificazione ormai far parte della nostra quotidianità mancano pochissimi giorni precisamente il 14 gennaio si darà il via alla nona edizione della Formula E precisamente con il del Messico quindi si volerà subito in America per cominciare questo nuovo campionato e soprattutto debutteranno le nuove monoposto gen 3 quindi la terza generazione ma non è la sola e unica novità perché veramente in questa nuova edizione della Formula E le novità sono tantissime si sono tantissime poi chiaramente ascolteremo anche l'opinione di Eugenio Franzetti da altro viene posticipata perché solitamente è sempre ad aprile trova una collocazione strategica e anche più spazio a livello motor sportivo 22 piloti 11 equipaggi ci saranno alcuni debutti importanti pensi in primis stanno investendo su questa manifestazione perché ovviamente esattamente proprio per questo passerei subito alla parola di Eugenio Franzetti appunto direttore di DS Performance DS tra l'altro Filippo è un marchio che ha sempre insomma partecipato alla Formula E e dominando e che dal 2024 produrrà solo vetture 100% elettriche assolutamente lo ricordiamo e lo abbiamo già insomma raccontato nelle scorse puntate Eugenio prego beh come sempre siete stati bravissimi avete detto tutto tutto quasi tutto per cui intanto grazie per ecco Eugenio ha detto una cosa importante la Formula E di fatto lo sintetizza l'idea ha fatto sì che le batterie diventassero più piccole batterie più piccole vuol dire più leggere quindi meno peso e quindi la macchina sostanziale da il diciamo il reparto engineering della Williams quindi c'è anche un know-how importante a dire questa potenza in gara e soprattutto nella capacità di rigenerare l'energia assolutamente parleremo nel secondo blocco dei piloti perché c'è ora ovviamente assolutamente da sbilanciarci anche su favoriti e non allora hanno ingaggiato il campione del mondo Van Dorn insomma hanno un team importante sembra il Milan degli anni 80 possiamo dirlo generico Vernia che si conferma sembra il Milan degli olandesi per fare un omaggio anche a Franzetti il team di DS Performance quest'anno nuove macchine, nuove piste, nuova era quindi della Formula E però ora vi lasciamo alla regia quindi alla linea della pubblicità rimanete con noi con Professione Motori a tra poco Bentornati alla seconda parte di Professione Motori dopo la pubblicità ci eravamo appunto lasciati parlando e dedicando questa puntata totalmente al Motorsport e alla Formula E con il collegamento video Giannio Franzetti direttore di DS Performance in collegamento video con noi e Filippo lo abbiamo detto anzi lo abbiamo anticipato secondo blocco dedicato totalmente ai piloti perché comunque DS si conferma e un'altra volta nel campionato della Formula E con un team importante che insomma presenta due nomi soprattutto molto importanti Van Dorn e appunto c'è una Rick Verne aziendale c'è ancora Andre Lotterer che per un anno è stato anche protagonista nel team proprio di un campionato relativo e che adesso si è trovato la sua dimensione in Formula E loro comporranno la coppia Eugenio passo direttamente a te ovviamente vi siete schierati bene in pista questo possiamo dirlo ah sì 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 beh sicuramente DS ha creduto fin da subito nella Formula E e quindi diciamo la Formula E è nata nel 2014 così come il marchio di Nick Devry piloto allandese che quest'anno sostituirà tra l'altro Pierre Gasly al volante dell'Alfa Tauri quindi sarà diciamo titolare per gran parte per tutta la stagione insomma ci auguriamo per lui che non ci siano intoppi strada facendo dell'attuale o meglio lo scorso anno d'epri è arrivato nono anche se in pista non si corre perché ricordiamo che la Formula E sono circuiti cittadini assolutamente e questo è anche un po' il bello e la particolarità della Formula E e credo che possa essere anche il segno della storia della Formula 1 hanno vinto tanti piloti diversi ecco la possibilità solo me abbiamo aperto la trasmissione la chiudiamo forse con la stessa considerazione questo deve essere l'anno della svolta della Formula E o comunque deve aprirsi una nuova epoca una nuova generazione non solo a livello tecnico con il nuovo monoposto in sulle piste della Formula E ci si corre solo la Formula E assolutamente circuiti cittadini che infatti rendono appunto così speciale appunto il campionato della Formula E stiamo in chiusura Filippo non so se Eugenio voleva aggiungere due battute prima di salutarci aggiungere qualcosa in merito vi invito tutti a seguire il campionato con attenzione perché penso che assolutamente e quindi anche noi Filippo questo weekend ovviamente saremo presenti nel vedere appunto la prima gara della nona edizione della Formula E io nel frattempo saluto e ringrazio Eugenio Franzetti direttore di DS Performance grazie Eugenio è un piacere come sempre e ti auguro una buona serata grazie arrivederci a voi e ringrazio e saluto anche Filippo Gerardi ma ti do appuntamento domani sera perché continueremo a parlare tra l'altro di motorsport e non solo assolutamente ci vediamo domani Martina grazie grazie Eugenio grazie a chi ci ha seguiti ringrazio ovviamente anche tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito come sempre e l'appuntamento con Professione Motori e per domani arrivederci e buona serata